Salve a tutti ragazzi e bentornati dal vostro Loretek. Quest'oggi parliamo di Green Pass, ma prima di cominciare, sigla! Nel video precedente abbiamo visto come ricevere il Green Pass sul vostro cellulare, ma se vi dicessi che c'è la possibilità di avere un Green Pass completo, con tutte le specifiche del caso, è possibile creare un PDF completo con tutte le caratteristiche. Ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Che cosa ci servirà? L'app Io. Attraverso l'app Io è possibile ricevere il Green Pass completo. In questo video vedremo un tutorial passo passo. Ok, bene, apriamo l'app Io, clicchiamo su Visualizza, qui ci dà l'anteprima del nostro Green Pass col QR. Allora, clicchiamo su Dettagli, scorriamo, andiamo per ulteriori informazioni, per scaricare il certificato in formato PDF stampabile vai su, clicchiamo qui. Allora, ripartiamo in sicurezza, la certificazione verde Covid-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia, è facile per gli spostamenti in Europa. Allora, noi cliccheremo sul primo punto, su questo sito tramite identità digitale Speed. Ok, scendiamo, entra con Speed, noi in questo caso utilizzeremo Post ID. Inseriamo le credenziali. Ok, Ministero della Salute, i seguenti dati stanno per essere inviati al fornitore dei servizi. Codice fiscale, quindi diamo a consento, ottieni la certificazione, lingua della certificazione mettiamo Italiano-Inglese, recupera certificazione, scendiamo giù, scarica PDF. Lo andiamo a scaricare, lo andiamo ad aprire, e come vedete qui abbiamo la certificazione completa. Bene ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se non volete perdere i prossimi aggiornamenti vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale, supportatemi lasciando un bel like, fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete eseguito questa operazione. Nei prossimi video vedremo come inserire il Green Pass nel wallet per iPhone in iOS. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi, da Green Pass e Lorettec da tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!